ah youtube che bel posto un posto dove ognuno di noi può condividere le sue passioni eh già perché siamo nell'era della tecnologia e se prima l'intrattenimento era creato da pochi e per pochi l'abbiamo visto in seguito diventare da pochi per molti e infine al giorno d'oggi da tutti per tutti ovviamente questo non riguarda solamente youtube ma anche e soprattutto il nostro amato mondo dei videogiochi e già perché se prima ci voleva molto di più a creare un videogioco direi che oggi più che mai è un tra virgolette impresa più alla portata di tutti e proprio questo fatto fa sì che sia molto più facile incapparsi rispetto in passato a titoli di scarsa qualità ma è anche più facile scovare perle rare o poco conosciute e mai come oggi abbiamo una così vasta ed enorme produzione di videogiochi e visto che l'occasione adesso di averne diversi sotto mano voglio unire l'utile al dilettevole iniziare questa mia rubrica in discussione è già perché approfitterò del fatto di essermi praticamente venduto come una puttanella per dare un parere personale sui giochi che questi sviluppatori personalmente mi mandano così che possiamo divertirci insieme e magari non so scoprire qualcosa di nuovo quindi bando alle trance e iniziamo il primo gioco che andiamo a vedere si chiama starting the game creato da online visions si presenta come un gioco troll un gioco meme dove il nostro scopo è per l'appunto cercare di avviare il gioco si presenta subito già con questi messaggi di errore e si presenta con questa grafica molto sempliciotta è interamente narrato da questo diciamo narratore e qui qualunque cosa mettiamo ci costringe a mettere mike qui giustamente cerca costantemente la rottura della quarta parete parlando con il giocatore in prima persona cercando queste gag cosiddetto tech humor ma non riesce mai molto bene a colpire nel segno per esempio si spegne il pc e ci dice veramente hai spento il pc io te lo riaccendo e poi ricomincia il gioco e praticamente tutto così è tutto così è una mediocrità nascosta nel tentativo di far ridere solo che fallisce praticamente in tutto ovviamente non è un gioco che si prende sul serio visto che lo trovate su steam a pochi centesimi ma nonostante tutto è il copione di bmovie ma dico nonostante tutto non riesce secondo me ha secondo me nel suo intento è forzatamente fatto male nel tentativo di far ridere ma ci troviamo in questo momento a ci troviamo di fronte a un gioco che non riesce in quello che vuole fare esempio qui ci propone un easter egg che appunto prende in giro minecraft prende si prende in giro l'industria idlc dice compra il tuo idlc piazza il tuo blocco è finita ma si ferma qui non riesce ad andare oltre sono praticamente delle schermate statiche con delle gag che non hanno praticamente mordente alla fine dopo aver viaggiato con una testa fluttuante in una specie di mondo ci troviamo a spacchettare una cassa di gabe newell dandogli praticamente dei soldi ci troviamo poi così dal nulla a investire questi soldi che abbiamo guadagnato vendendo l'item in una cripto valuta e dopo di che ci troviamo a comprare un qualcosa tipo è una scheda video nuova i sims 4 skin di fortnite insomma è una volta scelta la nostra opzione il gioco si concluderà questo è diciamo l'esempio di scarsa qualità di cui vi dicevo prima quindi mi sento di bocciare questo gioco perché oltre a essere breve anche se non costa niente è fin troppo mediocre se potete tranquillamente risparmiare quei soldi il secondo gioco di cui andremo a parlare si chiama anti hero già perché come dice il nome stesso seppur ci troveremo ad affrontare dei malviventi impersoneremo noi stessi le vesti del ladro sviluppato da team conkling e distribuito da evil versus noti già per la trilogia banner saga e per pillars of eternity 2 il gioco si presenta come un board game a turni ci si muoverà in delle caselle e uno per volte i giocatori svolgeranno le varie azioni per portarsi alla vittoria per poter vincere bisogna accumulare dei punti vittoria che possono essere ottenuti in vari modi per esempio corrompendo con bustarelle oppure uccidendo dei bersagli con una taglia sulla loro testa in questo mondo nessuno è un santo sia che ti trovi alti sotto o alti sopra della legge ogni giocatore in persona un ladro e subito dalle prime battute si deve cercare di avvantaggiare sull'avversario sarà quindi possibile svaliggiare case per incassare denaro arrullare scugnezzi vale a dire dei ragazzini che occuperanno dell'attività della città e che produrranno le due monete che ci serviranno l'oro e le lanterne già perché queste possono essere spese in un albero di potenziamenti dove nel corso della partita potremo ottenere armi per il nostro ladro oppure più unità come per esempio la gang dei veri e propri squadroni di morte che si potenziano quanto più sangue versano oppure degli esploratori per poter diradare della nebbia di guerra oppure ancora qualcuno che metta delle trappole negli edifici che poi gli avversari andranno a visitare insomma la profondità strategica c'è e si vede non è un gioco scontatissimo ma bisogna veramente spremersi le meningi e se una volta finita la campagna e la massima difficoltà o fatte tante schermaglie proprio che vi rompete le falle cercherete una sfida maggiore è possibile giocare in multiplayer se in modalità asincrona oppure in diretta quindi fate il vostro turno poi ve ne andate per cavoli vostri oppure rimanete a giocare la partita con il vostro avversario si può fare qui si vede invece la differenza con una produzione indie di gran lunga più curata sia nell'aspetto artistico che nel comparto tecnico costicchi ovviamente un po' di più attualmente su steam si trova a 15 euro però li vale a mio parere tutti è una chicca che sono contento di aver ricevuto e perché Antihiro me lo sento di consigliare veramente agli strateghi più accaniti ma anche ai fan dei giochi da tavolo bene ragazzi questi sono stati i due titoli per questo in discussione per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto che vi sia garbato se si fatemi sapere cosa ne pensate di questi giochi nei commenti e noi ci vediamo alla prossima ciao